Questa sera a Cortina Incontra ritroviamo Margherita Hack, astrofisica e donna importante della scienza in Italia. Si discute assieme al filosofo Mancuso di Big Bang e di stelle, di dove si è cominciato l'universo. C'è una risposta per i nostri spettatori? Ma dove è cominciato? Si pensa al Big Bang, però non è detto. Può darsi che il Big Bang sia stata solo una fase nella vita dell'universo e che l'universo sia sempre esistito. Questo non lo sappiamo. Noi possiamo studiare l'universo a partire dal Big Bang fino ad oggi. Ci chiedevamo anche nel panel precedente, c'è spazio per la fede, qualora si voglia dare una risposta meno razionale a questi interrogativi? Beh, per un credente uno crede sia opera di Dio. Un non credente può pensare, come penso io, che la materia sia sempre esistita e sia una proprietà della materia di aggregarsi a formare forme sempre più complesse. L'Italia ha dato i Natali a grandi geni che si sono distinti nei diversi campi della scienza, eppure oggi sembra un po' arrancare, quantomeno sul filone della ricerca. Lei cosa si sente di dire? Ma veramente ci sono molti... Oggi certo la scienza non è più fatta di grandi vette, è soprattutto lavoro d'equipe, però ci sono moltissimi ricercatori, almeno nel campo dell'astrofisica, che emergono, nel campo internazionale, che sono responsabili di progetti importanti dell'Agenzia Spaziale Europea, dell'Osservatorio Europeo dell'Emissaria Australe. Quindi in questo campo l'Italia è in posizioni d'avanguardia. I grandi geni sono rari, e oggi appunto più che grandi geni c'è questo lavoro d'equipe, la necessità di confrontarsi con varie specialità, ci deve essere il teorico, lo sperimentale, l'informatico, eccetera. Lei ha avuto anche il grande merito di riuscire in qualche modo a divulgare tali conoscenze ad un pubblico vastissimo. Gli anni scorsi c'erano tanti bambini in sala, si sente davvero di aver rivestito un ruolo importante in questo? Ma non so, spero di aver fatto capire un po' in cosa consiste l'astrofisica, che cos'è la scienza, Cosa vuol dire ragionare? Appunto essere esseri razionali e non preda di superstizioni. Un'ultima battuta finale, lei è spesso ospite qui a Cortina, evidentemente si trova a suo agio. Cosa si sente di dire per questo decimo compleanno di Cortina in Contra? Auguri, io ci vengo volentieri, è un bellissimo posto. Comunque ci vengo sempre per un giorno e scappo. Grazie, ci diamo appuntamento all'anno prossimo.